Corteo di protesta a Firenze e dei lavoratori delle agenzie delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli per alzare la voce contro la mancanza di personale in Toscana e a livello nazionale. I sindacati CGL, CISL, Wille di categorie, insieme a UNSA e FLP, hanno di nuovo lanciato l'allarme sul rischio di chiusura di alcuni uffici periferici, oltre 20 in Toscana, e hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura per porre una serie di richieste precise al governo. Un piano straordinario di assunzione, lo sblocco dei tetti sul nostro salario accessorio, un'organizzazione stabile, in quanto negli ultimi quattro anni abbiamo cambiato quattro dirigenti e abbiamo un'organizzazione che varia da dirigente a dirigente, e soprattutto un piano di formazione del personale. Sono previsti circa 80 pensionamenti quest'anno in Toscana e quindi arriveremo sotto i 1900 e c'è il rischio della chiusura degli uffici subprovinciali. Per i sindacati la carenza di personale in assenza di un nuovo piano di assunzioni rischia di mettere a rischio anche le attività di accertamento in materia di evasione fiscale.